Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo un tale si avvicinò e lì disse Maestro che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? E lì rispose Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti Gli chiese Quali? Gesù rispose Non ucciderai Non commetterai adulterio Non ruberai Non testimonierai il falso Onorai il padre e la madre E amarei il prossimo tuo come te stesso Il giovane gli disse Tutte queste cose le ho osservate Che altro mi manca? Gli disse Gesù Se vuoi essere perfetto Va Vendi quello che possiedi Dallo ai poveri E avrai un tesoro nel cielo E vieni Seguimi Udita questa parola Il giovane se ne andò triste Possedeva infatti molte ricchezze Grazie a tutti Grazie a tutti